Solo il Crotone, tutte le attenzioni sui pitagorici, nessun profumo di derby da annusare a distanza di giorni. Mister D'Aversa è categorico, non vuole distrazioni ma ritiene fondamentale la partita del Biondi. Definitivo scontro diretto, come afferma lui stesso. Non ci si fida di una classifica ancora deficitaria dei calabresi. In crescita è capace di rintuzzare il Bari con un perentorio 3-0. Al derby si comincerà a pensare, dopo aver dato tutte le forze in campo, contro i ragazzi di Drago. Mister Roberto D'Aversa. Ti faccio un esempio pratico di quando giocavo per farti capire come la posso pensare. Io ero diffidato, dovevamo giocare contro la Roma e poi con l'Udinese. L'allenatore mi venne a parlare per chiedermi se volevo saltare la partita perché era più abbordabile con l'Udinese. Io ho pretesto di giocare e abbiamo vinto a Roma. Non perché ho giocato io, ci mancherebbe altro per farvi capire che la partita di sabato è la più importante. E questa è importante. Di conseguenza poi possiamo affrontare anche l'altra in maniera diversa. Ma soprattutto se tutti quanti pensiamo che il pericolo principale sia il crotone. Se no facciamo un errore enorme. Per il resto mancheranno Mamarella e Paghera, ma le scelte non sono scontate in tutti i settori del campo. Bacinovic dovrebbe giocare in mezzo, Nunzella esterno basso di destra. Non sono escluse però altre variazioni nello scacchiere che non cambierà però atteggiamento tattico. Col crotone sarà sfida tra 4-3-3. Grossi e Pinato sono pronti alla causa. Ancora una volta il mister. Per quanto riguarda il sistema di gioco non dovrebbe cambiare niente. Cambiano i ragazzi che andranno in campo al posto di Carlo e Fabrizio. Ripeto, è innegabile che magari Carlo sulle palle inattive ha qualcosa in più rispetto agli altri. Ma questo lo sappiamo tutti. Quindi non c'è bisogno che lo dica io come non c'è bisogno neanche ricordarlo. Ognuna delle sue caratteristiche. Quindi la cosa importante è che chi va in campo va in campo soprattutto perché l'allenatore valuta gli allenamenti. In base a quello vuol dire che in un seno della situazione se dovesse giocare non è che non gioca perché manca Mammarella. Perché potrebbe mettere anche altre persone perché evidentemente merita di giocare seno. Queste le probabili formazioni. Virtus Lanciano con Nicolás. Difesa Aquilanti, Trest, Ferrari o Nunzella. Vastola, Bacinovic di Cecco in mezzo. Piccolo, Tiam, Gatto. Pensando a qualche variazione adoperata dal mister. Per quanto riguarda il crotone di Massimo, Drago. 4-3-3 in campo con Baiza, Balasa, Dos Santos, Ferrari e Martella. I quattro di difesa, Maiello, Dezzi, Salzano. E poi Ciano, Torregrossa e De Giorgio. Fischio d'inizio ore 15, previsti oltre 3.000 sportivi.